Il cancello aperto all'inizio del cantiere dà una parvenza di normalità che svanisce dopo circa un chilometro, quando la carreggiata si restringe perché il materiale di risulta occupa un'intera corsia. Ancora poche centinaia di metri più su e si scorge il vuoto, nessuna normalità purtroppo. Sono quei pochi più di 70 metri del viadotto chiusa che da due anni ormai, 27 gennaio 2014, hanno spezzato in due il cilento con notevoli ripercussioni sull'economia locale. Ancora qualche passo, è il silenzio interrotto dal rumore assordante dei mezzi e dal vociare degli operai al lavoro. Si presentava così ieri mattina il cantiere della provinciale 430 Cilentana, che da due anni rende problematici collegamenti tra Salerno e il Cilento. Per i cittadini del territorio e per i turisti che la percorrono soprattutto nella bella stagione, ma sarà l'ultima estate con i disagi, almeno così ha assicurato il presidente della provincia Giuseppe Canfora, mentre ha effettuato il sopralluogo nell'area di cantiere, insieme al vicepresidente Carmelo Sanziola, ai consiglieri Paolo Imparato e Giovanni Guzzo, ai responsabili del settore viabilità della provincia Domenico Ranesi e ai tecnici dell'impresa Castaldo S.p.A. che sta eseguendo i lavori. Io ho iniziato da poco, ma posso assicurare che ho iniziato in una squadra forte, che sta lavorando con energia, con forza, con capabilità per raggiungere dei risultati importanti che vanno nella direzione dei servizi, della vicinanza ai cittadini e alle comunità. La dimostrazione è avere qua il presidente, il vicepresidente, il delegato alla viabilità, però non è solo oggi che loro sono qua. C'è una presenza costante che continua, che non è solo fisica, ma è anche e soprattutto nel seguire i lavori con energia e con perseveranza. Il servizio, o meglio, quello che unisce questa maggioranza, questa amministrazione provinciale, è l'essere a disposizione o comunque mettersi a fianco di quelli che sono i problemi, i bisogni e le realtà dei nostri territori. Parole di rassicurazione che il presidente Canfora proferisce anche nei confronti del sindaco di Vallo della Lucania, Tony Aloia, e del capogruppo di maggioranza Celestino Sansone. Sì, oggi siamo qua per testimoniare il nostro impegno per lo sviluppo del nostro territorio. Siamo venuti qua per chiedere al presidente della provincia e alla ditta esecutrice dei lavori di assumere come priorità assoluta la realizzazione in tempi brevissimi di questa importante opera, perché senza questa arteria il nostro cilento è tagliato fuori, per cui al problema del turismo si aggiunge quello sanitario, come diceva il sindaco, e si aggiunge il problema di raggiungere i servizi che hanno sede a Vallo e che senza questa importante arteria ovviamente vengono a sminuire la loro funzione. Siamo venuti per chiedere che il cilento sia considerato una priorità nell'agenda politica della provincia e della regione e se raccogliamo con piacere le dichiarazioni del governatore De Luca, laddove dice che la Campania, mai come in questo momento, è stata assunta come parametro fondamentale del governo centrale, noi chiediamo che il nostro cilento, Vallo della Lucania e tutto il suo circondario siano assunti come priorità da parte della provincia e da parte della regione come importante snodo di servizi al sud della provincia di Salerno.